Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Sì, adesso andiamo a tutti Sì, i già andiamo a fare in questo video Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god. Oh my god. Oh my fuck. Oh boy, you're gonna run into another one. Oh my god. Oh my lord. Just try to get out of here. Oh, this is... God damn it. Man, fuck you, asshole, some bitch. Fuck you. Do it, I fuck. Ah! Woo! Get out of the way, bro. There's a risk going through. Holy fuck. Fuck it. Oh fucking die. Holy fuck. Eh?いやいや、ボケてないから何もしてないんですけど? ボケてないからつけ合ってないんですけど? 何も言ってないですけど。 僕、なんか顔に何か書いてありますか? なんか、色ボケって言っておきながらみたいな顔してたんで。 いやいやいや、まさかね、彼女作ろうなんて思ってないよな。 いやいやいや、思ってないから今こうやって、襟になるんですよね? はぁ。 そうですよね。 だから、合わないようにしてるんじゃないですか? あぁ、そうだよ。 あー、確かに。 でも、好きなんですよね? でも、好きはしょうがなくないですか? Susきは、別にしょうがなくないか。 Mi chiede sempre le persone non si tutte le cose sceglioni? Si, si riesci con le persone non si non si Si riesci con le persone che si fosse con il campione -se-bo... Yo, what up, Eve? Woo! Living my best life out here. Not guilty all fucking day. You know we outside? Fuck best. Fuck everybody involved. I'm outside. Woo! Pass that shit over here, bro. Yeah, pop that bottle. That's what I'm talking about. We outside. We winning. Hold on, let me step outside. Give me a sec, Eve. Hey, just thought I'd give you a call and, um, you know, I know you're hurting right now and everything and, um, put this glass down here really quick. I know you're hurting right now and, uh, nah, but for real, like, I'm really sorry that, like, all that happened. I know you're hurting right now and, um, I'm really sorry. I'm not sure how to do that. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Hey, Mayor Jones, I retrieved your flashlight. What? You're welcome. Hey, Commissioner, how you doing? Did you light that guy on fire? Howdy, friend. I got called back for an important meeting. Oh, what's going on? What are you up to? Uh, I'm having a meeting with the mayor, actually. Oh, that's good. I'm glad you're having a meeting with the mayor. She's gonna have to have a meeting with a fucking corpse! Ugh! Son of a bitch! ライダオを絶対手に入れる。 絶対ラダオを手に入れる。 E' Ancora Oh I' 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 I'm I' I'm 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 Voi è unنice? Voi è proprio il sogno Non mi sono mai stato? Eh? Ah, non mi sono io Voi? Hai Voi dire la tua vita E? Eh? Sì Rilogo Sì 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 Oì 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 Sì 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 Oggi è certo! Inizia l'ho accettato. Uitano, tornado e choppiti! la città Grazie a tutti. 知ってるよかっでいいのだれ離れた離れたハーレだからみんなで食べだったら アーレ sono già nare te voi la ma kino 1人 il sesso da gianggo e atto che no azzurri ma te la non è la mia non è la mia che è un da carà a la rai che ha il che è il 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 Oh no, non è vero! Non è vero! Questo è vero? Mi sono venuto? Mi sono venuto! Mi sono venuto inizio! Mi sono venuto inizio! e a今 c'estu car il rinché da becchè d'acchè gizuna Sì Grazie Sì Sì qui ladao il nico che non sei da non ti chiede non sono una cosa che non è da la giusta non è che non 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 è un uomo Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.